e ti riprende aspetta aspetta che e metti tipo la mano dentro dentro l'acqua vai 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 lascia 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 si è distratto eccolo il primo è andato il primo è andato eh si è andato è andato ce n'è un altro è andato via anche il secondo eccolo eccolo che è la punta che sta lì dentro ciao pesce rosso ce l'ha polverizzato io il pesce rosso che dentro ancora respira che se la bocca e fa così muovi se non lo sputa se non lo sputa si si per un attimo lo sputa questo deficiente scusa non lo sa che in uno spazio è chiuso quindi non gli può scappare può anche appena spiccare? ecco gli sta uscendo sta uscendo sta uscendo sta provando ad uscire il combattimento go off go off vieni dentro o col dito lo sta masticando che sta a fare lo ha mandato giù o vedi il pesce come respira ancora non deve far mandarlo giù non ci può stare ci si sputalo sputalo portalo guarda che roba probabilmente se fa così però lo soffoca perchè li tiene così le tranche si aspetta che ti amore si aspetta che l'altro poi lo l'altro è proprio la la mi sa che è morto adesso però no no ha la bocca ancora che fa così lei non riesce neanche a aprire la bocca non fa niente ti ha fermato così lo sta soffocando lo sta soffocando si è fermato niente volevamo vederti ingoiare e guarda come si smolegola la mascella si smolegola si smolegola si sta dibattendo la prossima volta ci dobbiamo mettere un un cucciolo di scorfano vedete che cazzo fa lo metti in bocca quello apre tutte le spine il pesce valla il pesce valla è carino no ancora c'è la labbra stavo parlando non c'è l'altro 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 non c'è l'altro